è uscito scotex magazine 27 sono contentissimo perché è un numero un po' speciale spoiler è un numero un po' speciale praticamente c'è una storia dei ciaovengers che è questo è canos è il nemico malvagio dei ciaovengers i grigi sono fatti come al solito dai lia è bellissimo sono contentissimo e c'è pure un poster dentro dopo ve lo faccio vedere oltre ai ciaovengers di cui non vi spoiler niente c'è anche una storia di racconti di francesco muzzopappa i racconti attorno al legno mi fa già ridere il titolo in realtà è anche due storie speciali una con chiara zuliani una disegnata da chiara zuliani scritta da me e un'altra pazzissima oltre a quello un'altra pazzissima di segnata da the sparker e l'ho scritta io è bello e ci sono anche altre cose uno spoiler della prossima rivista e questo è il poster bellissimo di carlo lauro grazie